salve a tutti e benvenuti sul canale creare con su test in questo video tutorial andremo a realizzare una copertina all'uncinetto una copertina con questo punto molto particolare di grandissimo effetto molto caldo e compatto per realizzare questa copertina ho utilizzato due numeri di uncinetto per lavoro principale l'uncinetto del numero quattro e mezzo per la rifinitura l'uncinetto del numero tre e mezzo ho utilizzato il filato top wool 150 della mondial qui abbiamo 100% lana vergine merino fine un ottimo filato si presta benissimo alla realizzazione di copertine e altri abbigliamento e altre cose sia per lavorare ai ferri sia per lavorare all'uncinetto mantiene un punto che è una meraviglia ho utilizzato dieci gomitoli ma proprio dieci gomitoli precisi questo è ciò che mi avanza del decimo gomitolo per cui si consiglia acquistare 11 gomitoli per non rimanere senza filato proprio all'ultimo giro vi ricordo come sempre che il filato lo potete acquistare nella nostra merceria sud est giù nell'info box troverete il link della merceria troverete il link di gruppo facebook creare con sud est dove potete iscrivervi e condividere tutte le vostre creazioni con noi troverete il link diretto al filato quindi per acquisto online inoltre troverete gli uncinetti e qualsiasi altra cosa che vi occorre la copertina misura 70 centimetri di larghezza e 87 centimetri di lunghezza pensavo che la copertina dopo essere lavata sarebbe diventato un po più grande in realtà non è così il punto è piuttosto compatto quindi dopo il lavaggio dopo la vaporizzazione rimane comunque di dimensioni piuttosto stabili quindi si consiglia se magari volete allungarla un pochino fare gli altri 3 centimetri in più per avere appunto una copertina standard da 70 a 90 centimetri vi servirà come minimo un gomitolo di filato in più vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale non dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi tutorial in uscita attendo molto volentieri i vostri commenti commentate e mettete mi piace o non mi piace se non vi piace perché questo comunque aiuta a crescere il mio canale vi ringrazio molto per la collaborazione e adesso passiamo al tutorial per realizzare la nostra copertina andiamo quindi avviare con il filato top full 150 uncinetto del numero 4 e mezzo e andiamo avviare 114 catenelle sono già comprese la catenella per alzarci quindi avvio di tutta la copertina sono 114 punti compreso la catenella per alzarci io adesso invece vi vado a mostrare un campione il campione andrò a realizzare con dei avanzi che ho già in casa e in questo caso abbiamo australia sempre 100% merino una lana vergine al 100% lana mondial andrò a utilizzare comunque l'uncinetto del numero 4 e mezzo consiglio utilizzare l'uncinetto più grande rispetto a quello indicato in etichetta perché questo punto stringe vado avviare 3 multipli voi invece sulla copertina avrete inizialmente già 9 multipli all'interno di queste 114 catenelle di avvio io andrò avviare 3 multipli per mostrarvi il punto come bisogna realizzare per facilitare il lavoro altrimenti diventa molto lungo quindi nel mio caso vado avviare 41 catenelle il multiplo è composto da 12 maglie ogni multiplo 12 catenelle ogni multiplo più 5 catenelle per la simmetria per i bordi finali più una catenella per alzarci nel vostro caso voi avrete 108 catenelle che sono 9 multipli 9 per 12 fa 108 più 5 catenelle per la simmetria più una catenella per alzarci 114 catenelle di appio catenelle cerchiamo di realizzarli morbidi altrimenti poi il lavoro stringerà se tendete a lavorare molto stretto le catenelle vi consiglio a prendere un uncinetto di mezzo numero più grande per esempio l'uncinetto del numero 5 soltanto per avvio di catenelle dopo di che cambiate l'uncinetto con il numero 4 e mezzo avviato le catenelle partiamo subito con la realizzazione quindi nella seconda catenella dall'uncinetto qui la prima questa è la seconda catenella dell'uncinetto vado a realizzare il primo punto basso nella catenella seguente secondo punto basso catenella seguente il terzo punto basso catenella seguente il quarto punto basso dopodiché filo sull'uncinetto salto 3 catenelle di base 123 nella quarta catenella di base vado a realizzare 5 punti alti tutti nello stesso punto di base quindi 2 34 e 5 salto 3 punti di base 1 2 3 nel punto di base successivo vado a realizzare un punto basso quindi nei punti seguenti ancora punti bassi per cui sono 2 nella catenella successiva sono 3 nella prossima e sono 4 e nella prossima ancora sono 5 punti bassi salto 3 catenelle di base 123 nella quarta catenella di base vado a realizzare 5 punti alti 1 2 3 4 e 5 salto 3 catenelle 1 2 3 nella prossima il primo punto basso e un punto basso nelle catenelle seguente un totale di 5 punti bassi 4 e 5 filo sull'uncinetto 1 2 3 saltiamo nella quarta andiamo a lavorare 5 punti alti quindi andrete andrete a proseguire così su tutto l'avvio delle nostre catenelle realizzando questi ventaglietti da 5 punti alti 3 e 4 salto i 3 punti di base 1 2 3 nella quarta catenella di base vado a realizzare il punto basso 1 2 3 4 e l'ultima catenella fungerà da una maglia di vivagno per cui sarà lavorata sempre a punto basso quindi punto basso una catenella giriamo il nostro lavoro nei punti seguenti vado a realizzare i punti bassi quindi nel primo punto di base un punto basso nel secondo punto di base secondo punto basso nel terzo punto di base il terzo punto basso dopo di che il filo sull'uncinetto e qui andiamo a lavorare le maglie appunto accoste quindi vado a prendere da sotto da con l'uncinetto entro da basso prendo completamente tutta la maglia quindi abbiamo tutta quanta le maglie sopra l'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta rialzata per cui prendo filo e tiro esco o 3 catenelle sopra l'uncinetto prendo il filo esco attraverso il primo filo abbiamo sempre tre anelli sull'uncinetto riprendo filo esco attraverso due fili abbiamo due catenelle su l'uncinetto prendo filo ed esco attraverso entrambi il prossimo un punto alto andiamo a realizzare proprio sopra al punto alto precedente quindi qui sopra andiamo a vedere al meglio il punto alto che abbiamo fatto in rilievo il prossimo è questo qui quindi andiamo a prendere le catenelle qua sopra lavoriamo un punto alto classico dopodiché il filo sull'uncinetto il successivo è un punto alto rialzato e a rilievo prendendo tutto il punto alto precedente usciamo lavoriamo una catenella due punti insieme due punti insieme il prossimo è un punto alto classico entrando nel punto precedente normalmente attraverso le due catenelle quindi di nuovo un punto in rilievo è rialzato per cui catenella due insieme due insieme il prossimo è un punto alto classico di nuovo un punto alto rialzato in rilievo e qui il prossimo è un punto alto classico l'ultimo punto alto in rilievo prendendolo a costa quindi tutti i punti alti che saranno lavorati in rilievo saranno rialzati realizzando prima la catenella e poi il punto alto fatto ciò andiamo a lavorare tre punti bassi nei punti centrali di base per cui il primo punto lo salto nel prossimo punto di base vado a lavorare il punto basso nel seguente punto di base punto basso quindi il secondo e nel successivo ancora il terzo punto basso si trovano tutti quanti al centro dopodiché vado a realizzare di nuovo il ventaglio con i punti alti fatti a costa a costa e i classici alternati quindi il primo punto alto e in costa lo andiamo a lavorare con il rialzo il secondo punto alto si lavora classico il prossimo punto alto e in costa catenella due insieme due insieme il prossimo punto alto classico il punto alto successivo in costa è rialzato il prossimo punto alto è un punto classico li andiamo a alternare così dovremmo ottenere cinque punti alti in rilievo e quattro punti alti classici nei prossimi punti sono tutti punti bassi realizzati proprio al centro tre punti bassi 1 2 e 3 andiamo a proseguire così fino alla fine di tutto il giro arriviamo al termine del giro qui abbiamo i punti bassi il primo punto di base lo saltiamo nel punto seguente andiamo a fare il primo punto basso nel punto successivo il secondo punto basso nel punto successivo il terzo punto basso e nell'ultima proprio la prima catenella del giro precedente che si fa sempre un po più stretta ma in ogni caso c'è andiamo a fare l'ultimo punto basso una catenella giriamo il lavoro nel primo punto di base andiamo a fare un punto basso nel punto di base successivo un punto basso il prossimo punto di base si salta quindi prendiamo il filo qui abbiamo le nostre maglie rialzate il nostro ventaglietto la prima maglia e la maglia la rialzata la prendiamo da davanti ora ci troviamo sul diritto del nostro lavoro quindi il punto coste a rilievo va preso da davanti prendendolo così entro prendendo proprio tutto il punto alto e lo lavoro il punto rialzato per cui una catenella chiudiamo una volta e chiudiamo la seconda volta dopodiché vado a realizzare due punti alti classici proprio qui dietro dietro a questo punto qui abbiamo il punto di base all'interno di questo punto di base vado a lavorare un punto alto nel punto di base successivo questo vado a realizzare il secondo punto alto dopodiché il prossimo punto alto è in rilievo prendo tutto quanto il punto e lo vado a lavorare rialzato quindi catenella chiudiamo una volta due insieme chiudiamo un'altra volta due insieme due punti alti classici qui dietro proprio qui giriamo leggermente e vediamo il punto di base all'interno a questo andiamo a realizzare un punto alto nel prossimo punto di base il secondo punto alto e quindi ripetiamo sempre così un punto in rilievo e rialzato per cui lavorato con la catenella due punti alti classici uno si trova qui dietro e l'altro nel punto di base successivo quindi andiamo a alternare facendo un punto in rilievo due punti alti un punto in rilievo due punti alti punto rilievo due alti fino a quanto non andremo ad ottenere cinque punti in rilievo vi consiglio di lavorare piuttosto morbidi perché il punto stringe molto lavorato tutto il ventaglietto qui abbiamo i tre punti bassi soltanto nel punto centrale quindi il primo punto di base lo saltiamo nel secondo punto di base e il punto centrale del giro precedente vado a lavorare un punto basso dopo di che ripeto il ventaglietto un punto alto in rilievo due punti alti classici fino alla fine di tutto il nostro giro arrivati alla fine del giro il primo punto di base lo salto nel punto di base successivo vado a lavorare un punto basso nel prossimo punto di base un punto basso e poi nell'avvio nella catenella del giro precedente un punto basso che sarebbe come se forse la maglia di vivagno una catenella giriamo il nostro lavoro e qui andiamo a realizzare tutto il giro con punti bassi presi in costa per cui entro attraverso la prima maglia esco da sotto nel punto seguente in questo modo e vado a lavorare il punto basso rientro nel punto di base esco nel prossimo punto quindi prendendo a coste punto basso quindi andiamo a realizzare questi punti bassi in rilievo completamente per tutto il giro entriamo con l'uncinetto da sotto esco nel punto successivo qui abbiamo due catenelle qui abbiamo due catenelle completamente per tutto il giro così arriviamo alla fine nell'ultima catenella quindi nel giro precedente vado a realizzare un punto basso classico abbiamo terminato il nostro multiplo come vedete il multiplo è composto in tutto da quattro giri in altezza il prossimo ventaglietto deve essere realizzato a scacchi per cui il ventaglietto qui di conseguenza anche un ventaglietto qui li andiamo a smistare come nella nostra copertina per ottenere questo effetto quindi andiamo a realizzare tre catenelle per alzarci 1 2 e 3 giriamo il lavoro quindi il filo sull'uncinetto e questo punto si trova qui eccolo qui andiamo a prendere il filo andiamo a tirare un pochino senza esagerare diciamo quasi all'altezza delle nostre 3 catenelle ma un pochino pochino in meno più o meno di un centimetro due centi un centimetro e mezzo due centimetri prendo il filo dall'uncinetto esco attraverso le due maglie riprendo il filo dall'uncinetto ed esco attraverso le due maglie abbiamo realizzato questo nostro punto alto riprendiamo il filo sull'uncinetto rientriamo esattamente nello stesso punto di base prendo il filo esco tiro un pochino quindi prendo il filo esco attraverso due anelli riprendo il filo esco attraverso i due anelli successivi e abbiamo fatto il secondo punto rientriamo di nuovo nel stesso punto di base tiriamo un pochino allunghiamo il nostro filo prendo il filo ed esco riprendo il filo ed esco e abbiamo realizzato tre punti alti rialzati adesso andiamo a realizzare i punti bassi dobbiamo realizzare i sette punti bassi qui sotto quindi anche senza contare andiamo a vedere qui abbiamo il nostro punto a rilievo qui sopra abbiamo il primo punto basso da realizzare quindi il primo nel prossimo secondo il terzo il quarto 5 6 e 7 abbiamo realizzato sette punti bassi un punto basso in ciascun punto di base al centro qui dove abbiamo i tre punti bassi quindi nel giro sotto vado ad entrare con l'uncinetto e vado a realizzare 5 punti alti rialzati quindi prendo il filo ed esco tiro un pochino per alzarlo lavoro due insieme due insieme di nuovo nello stesso punto di base riprendiamo il filo ed esco lo allungo un po chiudiamo e chiudiamo e la terza volta dobbiamo ottenere in tutto 5 punti alti rialzati tiriamo un po e 5 abbiamo cinque punti salto i punti di base sotto sopra al primo al secondo scusate il primo qui sopra al secondo punto alto rialzato vado a fare il primo punto basso in tutto sono sette punti bassi quindi un punto basso in ciascun punto di base 5 6 e 7 sono proprio centrali sopra il nostro ventaglietto nel prossimo punto sotto quindi nella catenella centrale nel punto basso centrale andiamo a realizzare cinque punti alti rialzati andiamo a proseguire così fino alla fine di tutto il nostro giro arriviamo alla fine del nostro giro anche qui dobbiamo andare a realizzare un mezzo pentaglietto per cui nel giro precedente qui sotto andiamo a realizzare tre punti alti rialzati tutti nello stesso punto di base e andiamo a realizzare un punto alto nella catenella dove ci siamo alzati quindi qua terminato questo giro vado a fare tre catenelle per alzarci 1 2 e 3 giriamo il nostro lavoro e andiamo a realizzare il punto alto in coste per cui il filo sull'uncinetto da sotto ci troviamo sul rovescio del nostro lavoro quindi il punto alto va realizzato da sotto prendiamo il punto alto così e lo andiamo a lavorare il punto alto in coste e rialzato lavoro esco fuori prendo il filo faccio la catenella esco fuori prendo il filo attraverso tutte e due e di nuovo attraverso tutti e due nel punto di base successivo quindi qui sopra vado a realizzare il punto alto classico il prossimo è un punto alto in rilievo quindi qua sotto riprendiamo a rilievo da dietro e lo lavoriamo rialzato con la catenella il prossimo è un punto alto classico e successivo un punto alto e rialzato per cui le andiamo a alternare un punto alto classico un punto alto rialzato qui sopra andiamo a realizzare i punti bassi il primo punto basso lo saltiamo nel punto seguente andiamo a realizzare il primo punto basso 2 3 4 e 5 sono cinque punti bassi dopo di che andiamo a realizzare i punti alti in rilievo e i punti alti classici alternati per creare il nostro ventaglietto si prendono da dietro rialzato classico il punto alto accoste da dietro rialzato quindi con la catenella il punto alto classico quindi andiamo a ripetere così per ottenere cinque punti alti rialzati e quattro punti alti classici su ogni ventaglietto e andiamo a lavorare così per tutto il nostro giro fino alla fine di tutta la copertina al termine del giro andiamo a realizzare i tre punti alti rialzati in costa e due punti alti classici realizzati tutti a rilievo quindi l'ultimo punto alto a rilievo e un punto alto nel punto di base quindi nella terza catenella del giro precedente un punto alto classico 1 2 3 catenelle giriamo il nostro lavoro ci troviamo sul diritto del lavoro e si continua a realizzare il punto alto in costa ma dal diritto di lavoro si prende il punto alto in costa dal davanti al lavoro e non dal dietro quindi catenella e poi chiudiamo il punto alto qui dietro ci troviamo il punto alto la base di punto alto e all'interno andiamo a fare il primo punto alto nel punto di base successivo il secondo punto alto quindi un punto alto in costa lavoriamo rialzato con la catenella dopodiché due punti alti il punto alto in costa qui andiamo a realizzare tre punti bassi saranno realizzati nel punti centrali quindi il primo punto di base si salta nel secondo il primo punto basso nel prossimo il secondo punto basso e nel successivo il terzo punto basso sono tre punti bassi lavorati proprio al centro andiamo a ripetere così lavorando i nostri ventaglietti come abbiamo fatto precedentemente un punto in rilievo preso a costa da davanti e lavorato rialzato con la catenella due punti alti classici quindi subito qua dietro il primo punto alto nel punto di base successivo il secondo punto alto lavoriamo così fino alla fine di tutto il nostro giro terminato il giro l'ultimo punto alto lavorato in coste e qui andiamo a realizzare nella catenella l'ultima catenella del giro precedente andiamo a realizzare il classico punto alto una catenella giriamo il lavoro e andiamo a lavorare i punti bassi in costa per cui entriamo e usciamo con l'uncinetto andiamo a prendere il punto in costa e lavoriamo il punto basso quindi lavoriamo così completamente su tutti quanti punti di base fino alla fine di tutto il giro lavorato tutto il giro appunto coste l'ultimo punto basso va realizzato all'interno dell'ultima catenella del giro precedente il punto basso classico una catenella giriamo il nostro lavoro e andiamo a realizzare di nuovo i ventaglietti però a scacchi per cui il ventaglietto successivo dovrà essere realizzato qui per fare ciò cominciamo il lavoro come nel primo giro quindi vado a realizzare quattro punti bassi 1 2 e 3 l'ultimo 4 quattro punti bassi nel giro precedente proprio al centro nel punto centrale qui allora vediamo bene in questo punto centrale vado a realizzare i cinque punti alti un po rialzati quindi tiro un po alzo il filo dopodiché chiudo nello stesso punto di base il secondo punto alto alziamo un po chiudiamo la prima la seconda volta andiamo a realizzare i cinque punti alti quindi andiamo a proseguire esattamente come nei giri precedenti spostando soltanto il nostro ventaglietto a modo di scacchi tutto il resto dei ciri sono tutti quanti esattamente uguali andiamo a ripetere questo multiplo realizzare la nostra copertina per tutta la lunghezza desiderata l'effetto che andiamo ad ottenere è proprio questo qui quindi una volta terminato andremo a realizzare il bordino proseguito con la lavorazione della copertina e se la andiamo a misurare con il centimetro dalle catenelle dalla biomaglie fino a tutta quanta la lunghezza sono 80 centimetri fatto gli 80 centimetri dobbiamo andare a realizzare il nostro bordo quindi vado a cambiare l'uncinetto prendo uncinetto di un numero più piccolo per cui il numero 3,5 e vado a realizzare il bordino il bordo il primo giro sarà lavorato tutto a punto basso quindi un semplicissimo punto basso ci alziamo con una catenella e vado a lavorare punto basso quindi un semplice punto basso sul bordo lungo della copertina vanno a ripresere le maglie piuttosto regolari non c'è una regola precisa di come bisogna riprendere le maglie e andiamo a lavorare qualche punto con punto basso poi andiamo a allargare la copertina e quindi vedere che sia il lavoro regolare che non stringa e che non comincia a farsi ondulato quindi ogni tanto prendiamo e controlliamo un attimino lavorato lungo tutto il bordo controlliamo sempre che non stringa e non allarga il lavoro deve tenere sempre molto regolare nell'angolino e ogni angolo che abbiamo sulla copertina quindi nei quattro angoli proprio nel punto angolare qui vado a realizzare invece tre punti bassi anziché uno solo nello stesso punto di base il primo il secondo e il terzo tutto nello stesso punto di base qui invece vado a proseguire sempre un punto basso su ciascuna catenella di avvio poi faremo anche il terzo lato il lato lungo e l'ultimo lato in alto che comunque si lavorerà il punto su ciascun punto di base realizzato i due giri a mezza maglia alta il risultato è questo qui controlliamo sempre il lavoro che deve essere bello regolare sui bordi laterali quindi l'ultimo angolo è fatto andiamo a chiudere il nostro lavoro con il punto bassissimo e andiamo a fare l'ultimo giro di rifinitura vado a fare una catenella gettata sull'uncinetto salto due punti di base 1 e 2 nel terzo punto di base vado a fare tre punti alti 1 2 e 3 un pippiolino quindi 123 catenelle ritorno indietro qui nell'ultimo punto alto e vado a chiudere il pippiolino con il punto basso di nuovo tre punti alti nello stesso punto di base 1 2 e 3 saltiamo due punti di base 1 e 2 nel punto di base il terzo punto di base andiamo a fare un punto basso ripetiamo il nostro multiplo quindi la gettata sull'uncinetto 1 2 nel terzo punto di base 3 punti alti 2 e 3 un pippiolino quindi 3 catenelle e lo chiediamo con il punto basso 3 punti alti nello stesso punto di base 1 2 e 3 saltiamo due punti di base 1 2 nel terzo un punto basso quindi andiamo a ripetere così fino a quanto non arriveremo all'angolo arrivata all'angolo della mia copertina realizzando tutto l'ultimo giro qui mi trovo dopo aver fatto i sei punti alti con pippiolino e 6 punti alti con il pippiolino dovrei saltare due punti di base e vado a finire giusto nell'angolo della copertina ora se voi avete una o due maglie in più potete fare il punto basso e quindi fare il salto più lungo non è un problema andrà bene comunque quindi io all'interno del mio angolino proprio dentro tra i due mezze maglie alte abbiamo la catenella proprio all'interno di questa catenella vado a fare un punto basso e stesso qui dentro vado a fare i tre punti alti 1 2 e 3 il p più lungo e di nuovo 3 punti alti tutto nell'angolino della copertina stesso qui farò anche il punto basso quindi rientro di nuovo nello stesso punto di base vado a fare il punto basso e solo ora riprendo la lavorazione sull'altro lato della copertina quindi salto due punti di base e nel terzo punto di base vado a lavorare i miei punti alti così farò in tutti gli angoli della copertina così l'angolino avremo bello perfetto e preciso su tutti i quattro angoli quindi andiamo a realizzare tutto su tutto il bordo della copertina l'ultimo giro e con questo possiamo dire che il nostro lavoro si conclude terminato l'ultimo giro andiamo a chiudere il giro all'interno della prima catenella del giro facciamo il punto bassissimo quindi con questo il nostro lavoro si conclude possiamo andare a nascondere tutte le codine lavare e vaporizzare la copertina e il lavoro è terminato come sempre grazie mille per avermi seguito e ci vediamo nel nostro prossimo tutorial